Hey girl! Hey boy! Superstar DJs! Here we go! Fabrizio Romano! Wow! Fabri! 29 anni ancora eh? 29 anni? Vado per i 30 tra qualche giorno Vabbè, come fai? Come i bambini che dice no ne ho 29 e mezzo No no, fa differenza, fa differenza, fa differenza Come stai? Bene, un po' stanco Sei affaticato? È stata una settimana pesante Perché è il re del calciomercato, quindi l'ultima settimana è stata bella tosta E tu sei reduce da una 12 ore di fila di maratona in diretta per aggiornare tutti sul mercato Sì, diciamo che da due anni e mezzo mi sono inventato questa cosa Visto che durante le ultime ore del mercato c'è sempre grande frenesia Soprattutto all'estero, devo dire In Italia purtroppo questa cosa va un po' soprattutto a gennaio Controtendenza Però all'estero si cerca il colpo fino all'ultimo minuto Ho detto perché non fare 12 ore di diretta Fabri, scusami, ti sposto, ti vedo lontano Posso spostarmelo un po' più vicino? Vieni Paoli, vieni Eccoci E' bello con le luci? È bello? È una bella... Sì? Allora, perfetto E quindi maratona, maratona Maratona, maratona E hai dato un po' di colpi anche importanti in diretta Hai dato un paio di here we go in Inghilterra C'è stato uno folle del Chelsea 121 milioni di euro per Enzo Fernandez Che ha fatto un mondiale pazzesco con l'Argentina Miglior giovane del mondiale E il Chelsea a un'ora dalla fine del mercato Ha deciso di spendere altri 121 milioni di euro E quindi uno in più Ha comprato sei giocatori a gennaio E io ho visto il video con una calma olimpica A un certo punto ti è arrivato un messaggio sul cellulare Ma guarda è stato folle Da chi? Da chi? Chi sono le tue fonti? Chi sono le tue fonti? Chi è che ti scrive prima di tutti? Non ti dirò mai Guarda, chi me l'ha detto Mi ha detto se dici il mio nome ti ammazzo Il testuale Però mi ha detto Ti assicuro che tutti stavano leggendo E guardando in diretta le cose che dicevi Quindi aspetta fino all'ultimo Ti avviso io Alle 8 mi fa sta saltando tutto Non dir niente Alle 10 mi fa vedo una luce 10 e mezza mi scrive here we go È andata È andata È stato un momento di adrenalina pura Senti io prima lanciando ti ho detto Ho provato a dare una mia ricetta Del come tu abbia fatto ad avere 14 milioni di follower su Instagram E altrettanti su Twitter tra l'altro Che è dicendo sempre la verità Che sembra una minchiata Ma il giorno d'oggi è una chiave incredibile Perché la credibilità è la tua cifra In un mondo poi soprattutto quello del calcio Dove si sparano le bombe di mercato Soprattutto all'estero Perché noi abbiamo un modello italiano Di fare calciomercato che è funzionato tanto Che è un modello che va avanti da tanti anni All'estero invece si tendeva molto di più A un modello di gossip Di rumor Di vendita del giornale Piuttosto che di click sul sito E quindi da qualche anno Io ho provato a dire Perché non portiamo il modello italiano Di fare mercato Quindi di seguire veramente Ogni dettaglio delle trattative Cioè le persone ormai ti fermano per strada Non ti chiedono chi compra l'Inter In Milano, la Juve Ti chiedono ma è vero che abbiamo una clausola A 20 milioni per il mercato Sì sono diventati ipertecnici È pazzesco Quindi ho detto questo modello quasi ossessivo Italiano di seguire il mercato Provare a portarlo anche fuori Non solo in Italia ovviamente Rimane l'Italia Ma anche fuori Quindi in altre lingue In inglese o quello che può capitare Lo sapevi già l'inglese? O hai dovuto studiare? Lo sapevo ma a livello molto base Però ti dico L'ho praticato praticamente parlando ogni giorno Con le persone al telefono Piuttosto che via mail Via messaggi È diventato un po' come vivere a Londra Ma vivendo a Milano Perché poi io vivo a Milano E quindi l'articolo sul New York Perché il New York Times Gli ha dedicato un articolo Te lo sei riuscito a leggere per conto tuo Quello ce l'ho fatto Ce l'hai riuscito a leggerlo così New York Times Il profeta Il profeta dell'accordo No loro si interrogavano sul fatto di Vedi che vedi l'ultima linea del sottotitolo Dice ma partecipa attivamente alle trattative Perché all'estero in tanti chiedono Se magari i club Gli agenti I giocatori Cerchino di influenzare le trattative Mettendo delle informazioni Su una piattaforma Da 14 milioni di persone Ah cioè tu puoi diventare un veicolo Anche per Questa è la loro vera curiosità Sì 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 E la risposta è? E la risposta è no 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 Non sei parte attiva La risposta è no E sono visto in maniera forse Eccessivamente positiva Da questo punto di vista Però Io cerco di fare il mio Poi molte volte può capitare Che magari siano loro a chiedermi Ma è vero sta succedendo questo Questo mi succede Sì poi tra le altre cose Hai vinto anche il Best Football Journalist Ai Globe Soccer Award di Dubai Insomma Grandi riconoscimenti Grazie E ho visto che il primo a congratularsi Per questo premio che hai ricevuto È stato un certo Come si pronuncia bene? Erling Haaland Haaland Erling Haaland In questo momento Probabilmente il calciatore Più forte Anche in potenza Sì insieme a Mbappé Sono i nuovi Ronaldo e Messi Esatto Sono i nuovi Ronaldo e Messi Come sei diventato amico di Haaland? Tramite Tramite Instagram Sì tramite Instagram Perché Ti dico C'è anche un po' di scouting Dal punto di vista giornalistico Cioè io tendo a volte A cercare i giovani più talentuosi E magari mandare qualche messaggio Quindi Come vanno le trattative Piuttosto che come va la vita Nella tua squadra nuova Come fa un'azienda Che poi deve eventualmente sponsorizzare Come potrebbe fare l'Adidas La Nike La Puma Che va a cercare i giovani Per poi metterli sotto contratto Tu fai più o meno la stessa cosa Esattamente così Quindi scrivo ad Haaland Quando ero Quando ero al Salisburgo Alla Juve Con una storia anche particolare Quindi vedevo che si stava iniziando A interessare i grandi club E da lì Mandandoci qualche messaggio Lui un ragazzo Di una semplicità incredibile Nonostante quello che possa sembrare Questo gigante Quasi inquietante E simpaticissimo Iniziamo a scambiarci messaggi Finché poi ci siamo anche visti Ti svelo questo retroscena Perché insomma Tendo a non dire tanto Questo tipo di cose Però con lui C'è veramente un bel rapporto A Dortmund Quando era ancora lì Al Borussia Prima di passare al Manchester City E ho trovato Veramente un ragazzo Sì sei andato a casa sua? Sono andato a casa sua Sì per qualche giorno È più grande o meno grande Di quella di Antonella Clerici? Credimi È enorme È enorme C'è un piano Sì? C'è il piano normale Dove lui mangia, beve, vive Sì? Il piano superiore È solo per gli allenamenti Calcolato Sono stato lì E ho visto lui allenarsi Sette ore Era tutto il tempo lì Praticamente sei con lì Dieci minuti Sì 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 E poi il resto è tutto allenamento Beh professionisti Un robot Impressionante Gli mandiamo un messaggio? Andiamo io Gli mandiamo un video? Andiamo io Vai Parla tu che lo conosci Io mi imbarazzo Peter Erling I'm here Stasera c'è Cattelan Con Alessandro Cattelan So it's a big show Here in Italy Send us a message If possible Just to say hi We wait for you Ciao Io mi imbarazzo Con i calciatori mi imbarazzo Si sta allenando adesso però Eh Vediamo se risponde Magari risponde Perché io mi imbarazzo Con i calciatori No ma di una simpatia Incredibile lui Sì 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 E quando hai capito che I social erano un buon mezzo Per fare questo lavoro Perché tu prima facevi Il giornalista sportivo Tradizionale Come fanno tutti i giornalisti sportivi Qual è stato il click Che ti ha fatto capire Che questa poteva diventare un È stata una notizia straniera Che ho ricevuto Negli ultimi giorni Di un mercato invernale Di qualche anno fa Dove già io praticamente Provavo a scrivere anche in inglese Quello che sapevo in italiano E a un certo punto Vengo a sapere che Bruno Fernandes Sarebbe diventato Il nuovo giocatore Del Manchester United Ed in quel momento là Quando ho condiviso quella notizia Sui miei social Su Twitter Ho detto Perché all'epoca Non usavo Instagram Con la stessa attenzione Di oggi Era un altro Instagram Dove si tendeva a mettere Una foto del tramonto Piuttosto che un pranzo Certo sì sì Un altro pianeta Dico metto questa foto E da lì I tifosi del Manchester United Sono completamente impazziti Foto del giocatore Sull'aereo Con il suo agente Pronto a volare per Manchester Sì Utilizzare le lingue Per parlare con altri agenti Altri dirigenti Presidenti I giocatori Oh 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 Ci siamo Oh Oh Vediamo Oh Hey Fabrizio Alessandro It's Erling Haaland Here As you can see I just have a quick message For both of you Here we go Ma è cosa È il numero uno È il numero uno Pazzesco È il numero uno lui Lo voglio rivedere Me lo rimandi Me lo rimandi Aspetta Me lo rimandi Hey Fabrizio Alessandro It's Erling Ah no Ho messo Erling Haaland here As you can see I just have a quick message For both of you Che belle labrone Tutte da baciare Che ha No È enorme tutto È tutto Quanto è grosso È abnorme Avrà mangiato anche lui Le patatine che abbiamo mangiato Io e Fedez Che bello Sai cosa fa lui di sera Che è appunto questo Ora è un bappé no Com'è Ora è un bappé È un bappé lo quello Dai facciamoli tutti Haaland di sera Si Si mette lì a guardar partite Si Indossa questa sorta di pantaloni speciali Per recuperare più in fretta Io non so cosa siano queste cose Non sono così tecnologico Tipo quelli di Vanna Marchi Esatto Per studare Esatto Occhiali particolari Particolarissimi Si Una cosa folle Si mette lì sul divano Riposa Perché così il giorno dopo L'allenamento è pronto E guarda calcio Fino all'una di notte Eh si Vabbè professionista Mostruoso Ha detto here we go Che è un po' il tuo Cioè è il tuo slogan Come ti è venuto Cioè hai dovuto pensare tanto Ti è venuto una volta È andata bene L'hai tenuto O ti sei messo lì a dire Come on no Check it out Here we go Tanti pensano che è stato così Magari con qualche agenzia In realtà cosa succede Un'estate Non ricordo neanche il trasferimento Per farti capire quanto casuale fosse Il Manchester United Stava trattando un giocatore Classica trattativa Che dura settimane Siamo abituati Noi in Italia Non finiva più Giorni e giorni Si tratta Rilanci cose Alla fine finisce questa operazione Io scrivo la Manchester United Comprerà questo giocatore Here we go Come a dire Finalmente è finita Ci siamo Basta Dal giorno dopo Tutti quanti su Twitter Iniziano a scrivermi Ma puoi dire We go anche per noi Per favore Arsenal Manchester City È diventato una roba Sì un mantra Ho detto va bene Proviamo Da quel momento in poi Non lo ho più lasciato È nato con la gente Per quello mi è piaciuto E siccome poi funziona Perché quando Fabrizio dice Here we go È here we go Cioè le cose succedono veramente Tu di solito fai le foto Dei giocatori Con quella tendina neutra dietro C'è il giocatore Sì in posa con la maglia Io ho fatto preparare La tendina dietro Ok E visto che poi Le cose si avverano Non puoi dire Un here we go A me all'Inter Proviamo Ok Va bene Fai Alessandro Cattelano All'Inter Perfetto Abbiamo detto Vai Hai la maglietta Certo Abbiamo detto Che il suo segreto È la credibilità Che la stiamo minando In questi Esatto Disintegrata Ok fai un here we go Vai Alessandro Cattelano All'Inter Vai Sparato a 14 milioni Di follower in giro Per il mondo Che pendono dalle tue labbra Perfetto Usa questo qui Usa quello Vai Usa il tuo Vieni Vai Sì Perfetto Siamo pronti Faccio quello che esulta Sempre devi esultare Fondamentale Fondamentale Vai Perfetto A posto Adesso lo gestiamo Adesso lo gestiamo Perfetto Ale Cattelan Here we go Inter Vediamo se ci casca O magari ci casca Va bene Magari me la vedo io Questa ormai La pendo qua Perfetto Ale Cattelan Ce l'abbiamo qui Come si mette la cravata Here we go Inter Inter Fantastico Vai Se poi è ti do il 10% Come funziona Divento il mio procuratore Tutto pronto Guarda Siamo qui Grazie mille Guarda come sto bene con la maglia dell'Inter Eccoli qua Ma grande Ci siamo Grazie Fabri In bocca al lupo Per il tuo lavoro Grazie a te Grazie a voi Faccio un grande applauso a Fabrizio Romano Grazie mille Grazie mille